Bentornati e buona domenica a tutti, come cantava Antonello Venditti. Oggi, prima di parlare delle cose di stretta attualità, vorrei rispondere a una domanda di un amico del canale, Emanuele Nardi, il quale ieri ha sollevato un interrogativo secondo me interessante che utilizzo come pretesto per alimentare poi il dibattito di questa domenica. La domanda che mi fa è, i nomi che si sono fatti in queste settimane accostati al Milan per la prossima sessione di mercato sono praticamente tutti i nomi di giocatori stranieri, tranne quello di Sandro Tonali. E allora mi domanda, italiani che farebbero al caso nostro non ce ne sono? E questo è un interrogativo importante e qui bisogna entrare in un sentiero abbastanza tortuoso. Innanzitutto per fare questo tipo di analisi partiamo con quello che è l'elenco stirato da vari siti specialistici di giocatori giovani, quindi diciamo fino a 23 anni italiani e la cui potenzialità può aumentare nel corso del tempo. Allora al primo posto c'è Gigio Donnarumma che è già nostro, al secondo posto c'è Sandro Tonali del quale sappiamo, poi i nomi sono quelli di Barella che è dell'Inter, Zaniolo della Roma, Sebastiano Esposito che è dell'Inter, poi abbiamo Federico Chiesa della Fiorentina, Moise Kenne, Bastoni che è dell'Inter, Luca Pellegrini che è del Cagliari ma in realtà è della Juventus, poi c'è Sensi che è dell'Inter, Locatelli del Sassuolo, cioè vedete alla fine i nomi sono più o meno questi. Poi si va ovviamente verso giocatori che hanno come dire una dimensione ancora un po' meno potenziale, come ad esempio non lo so qui si porta il nome di Mandragora, si porta il nome del nostro Calabria, c'è ad esempio Bellanova, c'è Plizzari, insomma ci sono tutti questi giocatori poi che abbiamo visto anche nelle under giovanili, ma in ogni caso come potete notare da questo elenco la prima cosa che salta all'occhio è che quelli forti sono già nelle grandi squadre e gli altri invece no, giocano in squadre di seconda fascia e per lo più non sono nemmeno tutti titolari perché la differenza vedete con i giocatori stranieri è anche questa, i nomi di giocatori stranieri che si fanno accostati al Milan che naturalmente poi rispondono anche a una logica di connessione con l'avvento di Rangnick, quindi tanti nomi che si fanno sono legati in realtà a un passato con o a un passato diciamo attinente a il nostro futuro allenatore manager, ma in ogni caso sono tutti giocatori titolari nelle loro squadre, sono tutti giocatori che in Bundesliga giocano, che in Ligan giocano, che in Spagna giocano, quindi un po' la differenza è anche questa, qui da noi c'è come sempre ovviamente un po' di fatica a lanciare i giovani in prima squadra, cosa che il Milan ad esempio ha fatto negli ultimi anni, un po' per necessità e un po' per volontà, in ogni caso questo è anche il punto focale, per cui non mi sento di fare grandi nomi proprio perché come dall'elenco che vi ho fatto, quelli che hanno una grande prospettiva fondamentalmente sono Donnarumma, Tonali, Barella, Zaniolo, ma questi li conoscete tutti. Quindi giovani diciamo che possono essere utilizzati subito come titolari al Milan, per adesso non ce ne sono. Poi se qualcuno di voi ha qualche nome ovviamente è ben accetto nel corso del dibattito e potremmo parlarne volentieri. Comunque questa è la prima risposta che do a Emanuele, il quale poi fa una seconda domanda e entriamo attraverso questa nel tema della giornata. Mi sembri, non dico entusiasta, ma fiducioso e favorevole al progetto Rangnick. Sì, sono assolutamente fiducioso per una serie di motivi che ho già detto e cioè fondamentalmente per il fatto che finalmente c'è una linea, o sembra esserci perlomeno una linea della proprietà netta e chiara e poi perché attraverso tutti gli esperimenti che sono stati fatti negli ultimi anni con allenatori di un certo tipo, con campagne acquisti slegate tra l'operato del DS e la volontà dell'allenatore, almeno per una volta avremo se non un'altra unità di intenti nella scelta e nella costruzione della squadra perché sarà affidato di fatto a un unico responsabile. Per cui da lì non si scappa. Ecco perché io sono moderatamente fiducioso o quantomeno sono, non sono scettico, ma sono curioso di andare a vedere che cosa accadrà. Naturalmente relativamente alla questione Rangnick adesso l'attenzione dopo essersi concentrata sull'intervista del tecnico e quindi aver enfatizzato un po' le sue parole è rivolta adesso a Paolo Maldini, quindi alla situazione di Maldini. Sui giornali di oggi si parla di una possibile permanenza di Maldini al Milan con un ruolo però molto depotenziato rispetto a quello attuale, cosa che io escludo a priori, ma che la logica ci dice di escludere a priori per due motivi. Primo perché sappiamo che Maldini è tornato solo perché ha avuto la possibilità di occupare un determinato ruolo, cosa chiara che lui aveva messo subito in chiaro fin da tanti anni fa quando si era cominciato a parlare di un suo possibile ritorno al Milan e poi perché la seconda cosa è il fatto che lo stesso Maldini ha di fatto escluso l'opportunità dell'arrivo di un manager come Rangnick al Milan in una famosa intervista di qualche mese fa della quale abbiamo parlato e per la quale io ho fatto anche un video, se vi fa piacere potete andare a vederlo dove analizzo un po' le parole di Maldini. In ogni caso la situazione mi sembra piuttosto chiara, cioè l'arrivo di Rangnick esclude la permanenza di Maldini. Poi non è detto che magari questo manager tedesco non abbia avuto o avrà la volontà di magari proporre a Maldini un qualche ruolo all'interno del Milan, però è chiaro che se questo sarà un ruolo di rappresentanza come molto probabilmente potrà essere, difficile che Maldini accetti e quindi infatti anche oggi sui giornali si parla di una possibilità che Rangnick voglia mantenere Maldini all'interno del Milan, però chiaramente con ruoli molto molto diversi, con un ruolo molto diverso rispetto a quello attuale. A questo punto poi si pone anche una questione morale, se vogliamo fare riferimenti a vecchie cose di sinistra che sicuramente quelli che hanno la mia età si ricordano. La questione morale in questo senso è, può essere Maldini utile al Milan anche al di fuori di un ruolo prettamente di comando come quello attuale? Cioè Maldini può fare lo Zanetti del Milan? Allora è chiaro che la questione andrebbe ribaltata, cioè Maldini probabilmente avrebbe dovuto entrare in una società costruita in un certo modo e consolidata in un certo modo, fare un percorso dirigenziale al suo interno per capire quali sono le dinamiche perché sappiamo che nessun mestiere si improvvisa e molti mestieri però si possono imparare, per cui forse anche lui sarebbe stato agevolato da un percorso di un altro tipo, però è ovvio anche un'altra cosa, che Maldini ha detto io il dirigente lo farò solo al Milan, forse in nazionale, ecco magari potrebbe esserci un destino azzurro per Maldini, ma insomma diciamo lui ha detto il manager della squadra di club lo faccio solo al Milan, prima non c'erano le condizioni per farlo, nel senso che abbiamo avuto un po' di vicissitudini societarie negli ultimi anni, prima sapete lo scontro tra Galliani e Barbara eccetera, la storia la conoscete meglio di me, quindi non ci sono mai stati reali presupposti affinché Maldini potesse entrare, prima condizione a sua parziale discolpa, poi ovviamente lui ci mette il carico dicendo io voglio comandare e alla fine il risultato è questo mezzo pasticcio, poi insomma comunque ognuno ha la sua considerazione su Maldini, io non ho, ovviamente io adoro Paolo Maldini per quello che è stato e anche per il cuore che ci ha messo in questa avventura, però ripeto, probabilmente come tutti i mestieri anche questo aveva bisogno di un po' più di esperienza per essere svolto soprattutto, soprattutto nelle condizioni difficili nelle quali si trova il Milan adesso, bilancio, società, una come dire, una situazione di mediocrità che sia un po' incancrenita, allora scrostare tutta questa ruggine è complicato se non hai probabilmente un'esperienza alle spalle di un certo tipo. Quindi non è tutto negativo all'operato di Maldini, però è chiaro che delle considerazioni vanno fatte. Così come considerazioni vanno fatte anche su Pioli, la Gazzetta dello Sport oggi che ha praticamente adottato Stefano Pioli scrive che le interviste rilasciate da Rannick non hanno fatto piacere, Pioli vuole chiudere in bellezza eccetera eccetera. Allora innanzitutto siamo tutti d'accordo e siamo tutti anche come dire con le mani congiunte affinché Pioli possa chiudere in bellezza la sua esperienza al Milan. È chiaro che io ad esempio vorrei una qualificazione almeno all'Europa League perché sapete che io voglio partecipare sempre alle coppe perché un Milan fuori dalle coppe è una cosa che lascia sempre un segno e che non va bene, quindi anch'io vorrei che Pioli chiudesse bene la stagione, però si torna sempre ai soliti discorsi, ai processi di beatificazione di allenatori assolutamente normali. Tra l'altro poi Tutto Sport fa un inciso molto divertente perché dice Pioli per Pioli un film già visto. Tante analogie con quello che è già successo all'Inter. Sì però c'è da dire una cosa, voi ve la ricordate la storia di Pioli all'Inter? No, la storia di Pioli all'Inter finì di fatto col 2 a 2 nel derby, quello di Zapata all'ultimo minuto, il primo derby dei cinesi come si disse allora, con grande eleganza. Finì lì perché poi l'Inter decise di non partecipare all'Europa League, di fatto si autoescluse da quella corsa e l'anno dopo arrivò Spalletti e poté lavorare solamente sul campionato per centrare il quarto posto. Quindi diciamo questo racconto un po' così, un po' aulico del Pioli che viene scartato dalla società perché non è riuscito a raggiungere certi obiettivi nonostante un ottimo lavoro fatto, in realtà è semplicemente un artefizio che viene utilizzato per disegnare la figura di un allenatore e per i motivi di quali abbiamo già parlato, cioè per il fatto che questi signori hanno paura che lo status quo di tante situazioni venga modificato e vada a cambiare e il Milan possa tornare competitivo. Per tornare competitivo il Milan ci sono dei nomi di mercato, alcune cose velocissime perché non ci sono in realtà notizie, ci sono solamente brutte notizie per noi nel senso che allora prima cosa sulla stampa francese di oggi si sottolinea il fatto che Depay potrebbe rimanere a Lione. Abbiamo già parlato di Depay qui, secondo me non è un profilo adatto per il calcio di Rangnick, non in generale perché a me piace Depay, ma non è un profilo adatto per il calcio di Rangnick. Upamecano anche a Real Madrid sul difensore e alla fine Jovic dovrà stare fuori tre mesi per la rottura del piede mentre si allenava in casa. Adesso dice il Corriere della Sera che il ragazzo è rimasto spaventato e depresso, il Milan sulle tracce dell'attaccante è valutato 40-50 milioni di euro, staremo a vedere, non è che questo infortunio vuol dire a tornei fermi e forse anche finiti, non è che sposta di molto la situazione. Chiudo dicendovi una bellissima notizia uscita ieri, in realtà è semplicemente una di quelle notizie di mercato che servono per rendere più liete le giornate, cioè l'arma segreta di Leonardo, Paris Saint Germain, Verratti chiama Tonali per convincere a scegliere il Paris Saint Germain. Quindi il centrocampo del Paris Saint Germain della prossima stagione sarà composto da Verratti, Benasser e Tonali, immaginatevi voi. Passate una buona domenica, ci sentiamo alla prossima, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e tanti saluti. Grazie a tutti.